L'imbroglio di carta è il bel volume di Andrea Falaschi dedicato ai manifesti del cinema. Non è il consueto volume antologico dedicato all'arte dell'illustrazione per il cinema, ma un viaggio personalissimo di qualità visuale che cerca in qualche modo di recuperare quell'esperienza del limite che divide il desiderio dalla sala cinematografica. Per una recensione dettagliata del volume rimandiamo al link in descrizione qui sotto, mentre in questa sede vogliamo sfogliare alcune pagine del libro davvero di altissima qualità per sintetizzare al meglio l'esperienza sensoriale che veicola. Mentre lo sfogliamo insieme, alcuni dettagli che desumiamo dal risvolto posteriore di copertina del volume. Andrea Falaschi è un macellaio di San Mignato, piccola cittadina in provincia di Pisa, dove svolge un compito artigianale di alto livello, legato all'attenzione per la materia. La mia è una storia di sangue e ossa, scrive Andrea. Ho da sempre la passione per il cinema e per l'antropologia dell'immagine. Da dove viene e perché viene fatta. Vivo regolarmente in un piccolo paese del centro della campagna toscana a San Mignato. Abitualmente sono invitato da altri macellai, scuole, università di tutto il mondo per insegnare il mio sapere del taglio, delle carni e cerco di viaggiare più che posso per nutrire le mie curiosità. Questa è la mia opera prima, omaggio l'evoluzione grafica da come è a come era, una specie di viaggio indietro nel tempo attraverso la mia collezione privata, collezionata durante i miei viaggi. Questa è la presentazione che Andrea pubblica nel risvolto di copertina mentre con un'introduzione più corposa all'interno del volume spiega la sua relazione con i manifesti di cinema, quello che significano per lui e in che modo ha operato le scelte del volume. Ad accompagnarlo in questo viaggio i punti di vista di Tonino De Bernardi, regista, Andrea Borghini, filosofo, Noriyuki Kai, storico dell'arte, Giacomo Forte, tra le altre cose attuale segretario del centro Pecci e Sam Gilbey, illustratore. Ognuno di loro offre coordinate storiche, semiotiche o semplicemente legate alla propria personale storia del cinema, come nel caso di De Bernardi, cercando di conciliare l'al di qua e l'al di là rispetto al manifesto e allo schermo. Come stiamo vedendo, il volume ha un notevole impatto grafico e una vera e propria narrazione visuale. In questo caso stiamo ammirando il manifesto di Trash, il film scritto e diretto da Paul Morris nel 1970, dove vediamo una grande pagina a quattro ante rielaborata da Andrea Lippi e che introduce il manifesto originale isolando alcuni elementi cromatici e legati in questo caso al bellissimo lettering del manifesto italiano creato dal grande Sandro Simeoni. È un procedimento questo che si ripete molte volte nel volume che in qualche modo isola alcuni elementi ottici, grafici, cromatici e li trasforma in un percorso cinematico e visuale che modifica il mondo concentrico dei manifesti in uno spazio eccentrico e centrifugo. Questo approccio coinvolge molti altri manifesti, per esempio quello di Profondo Rosso oppure Day of the Dead di George A. Romero, che subiscono la stessa scomposizione grafica, La notte di Antonioni è un altro di questi appunto. Il volume, oltre ai manifesti e ai saggi che offrono alcune possibili letture di questo viaggio all'indietro dal 2010 al 1951, presenta un appendice con le fotobuste d'epoca. Le fotobuste, per chi non lo sapesse, sono quei manifesti di formato più piccolo, usualmente rettangolare, 70 x 50, ma ci sono anche altri formati e che avevano un'impostazione eminentemente fotografica, con una scelta di foto scattate spesso sul set e con le informazioni sintetiche del film. Normalmente le fotobuste a livello di quantità per ogni film potevano essere tra le 8 e le 16, per quanto riguarda una serie completa appunto legata ad un film specifico. Il volume di Falaschi ne raccoglie alcune delle più belle. L'imbroglio di carta viene venduto al prezzo di copertina di 25 euro e per informazioni c'è una mail che scriviamo qui sopra e che è info-imbrogliodicarta.it Grazie a tutti.